ciao bentornati in questo nuovo video oggi video recensione delle sorpresine thai del mcdonald abbiamo già due amichette della thai che sono la nostra corin e la nostra stella e corin è un peluscino della thai normale un unicorno e invece stella è una formato salsiccetta unicorno salsiccetta tum 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 esatto mentre al mcdonald ci sono le sorpresine dell'appi mille con i personaggini della thai e quindi noi stiamo diventando degli hamburger viventi perché dobbiamo andare al mcdonald ogni cinque minuti perché lara vuole tutti i pupazzetti e per ora siamo arrivati a questi li vediamo insieme avete già visto in un video precedente la nostra piccolina seymour che è una ballinina bianca anche lei sembra un po sum sum perché bella cicciottina e lara va chiamata hope come la foca di zomarin che abbiamo accarezzato qualche settimana fa e quindi è rimasta nel cuore quella fochina lì e quindi ha voluto chiamare oppa anche lei e abbiamo delle new entry abbiamo lui che è un rinocerontini come si chiamava è staccato il cartellino? speik speik eccolo qui con il rinocerontino con il suo cornino è molto molto bellino mi fa pensare una cosa vuol dire speik? poi abbiamo lui che è il? speik sembra parlato il mucchino speik sembra speik speik no è prosciutto allora questo qui è un mucchino un piccolo toro che si chiama snorto snorto poi abbiamo il pinguinino questi sono gli ultimi tre arrivati ci hanno ancora il cartellino che l'ho chiamato weidle si chiama weidle ma l'ho chiamato weidle come un weidle come un pokemon esatto quindi sei diventato un pokemon sei contento? no è triste è tristissimo no poverino dai weidle ok poi abbiamo il leopardino che si chiama che è stata fortunatissima perché erano finiti aveva avuto un doppione e c'erano altri ragazzini al tavolo vicino al nostro che avevano il leopardino e lei è andata a chiedere ha detto qualcuno vuole un pinguino in cambio di un leopardino è un ragazzino e ha detto sì io volevo un pinguino perché ce n'avevo due di pinguini quindi anche voi se avete doppioni potete fare degli scambi e questo qui si chiama freckles ma io l'ho chiamato franklin l'ha chiamato franklin è molto carino anche lui codina e poi passiamo all'ultimo che è fantastica è tra le mie insieme alla fuchina è proprio la mia preferita la girafina la mia preferita è la girafina che si chiama twix è molto molto bellina ha questi occhietti questi occhietti sì balla il twist ma io l'ho chiamata lola ma allora l'ha chiamata lola quindi twix si chiamerà lola per noi e niente voi che cosa avete trovato avete anche voi personaggi della thai si rende al mcdonald anche voi anche voi come lara scassate la l'anima i vostri genitori per andare al mcdonald ditecelo nei commenti di 10 cosa avete e cosa vi piacerebbe trovare noi non so se riusciremo a trovare anche gli altri perché non è che andiamo veramente tutti i giorni insomma non sarebbe possibile per adesso direi che siamo soddisfatti così se troveremo altri personaggi ve li faremo vedere nelle prossime recensioni delle pnil per adesso un bacino a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao